I 5 animali più grandi al mondo. Al quinto posto c'è lo squalo balena, che è anche il pesce più grande al mondo, con una lunghezza massima che può superare i 12 metri. Al quarto posto il calamaro colossale è il più grande tra gli invertebrati conosciuti. Può raggiungere i 10 metri di lunghezza e i 500 chili di peso. Prima di andare avanti scrivi curiosità nei commenti se ti piacciono questo genere di video. Al terzo posto va il più grande mammifero predatore al mondo, il capodoglio, che può raggiungere i 18 metri di lunghezza. Si aggiudica il secondo posto la balenottera comune con una lunghezza impressionante, che può raggiungere i 27 metri e le 80 tonnellate di peso. L'animale più pesante al mondo è la balenottera azzurra. L'esemplare dalle dimensioni maggiori finora rinvenuto è lungo circa 34 metri e pesa ben 190 tonnellate. La sua lingua arriva a 6 metri e pesa 4 tonnellate. Quale ti ha impressionato di più? Scrivilo nei commenti e seguimi per altre curiosità.